I giocatori stessi, se effettivamente è il caso, che possono entrare in campo. Quindi vedremo prima dall'allenamento. Contro il Sion, lei ha detto che è uscito deluso, perché non avete toccato fare qualcosa di più. Che cosa avete sbagliato? Cosa è mancato? Le occasioni che ci siamo creati, soprattutto al primo tempo, credo che c'è stata una squadra che ha giocato. Questa è stata a Lugano, anche se non a ottimi livelli, però abbiamo dominato la partita. Subito dopo sette minuti abbiamo avuto questa palla a gol con Lovric, che lì chiedo naturalmente molto cattiveria, perché era una palla da mettere dentro. E quindi la partita avrebbe già cambiato di fisionomia. Quindi andare in vantaggio 1-0 dopo sette minuti il Sion avrebbe dovuto giocare in un'altra maniera di quella che ha fatto. Quindi peccato, peccato, perché anche dopo c'è stata la palla di testa di Sabatini, che anche quella era una ghiotta occasione, come anche sulla punizione di Maric, un po' meno. Però sicuramente a metà tempo andare in pausa a 0-0 era insufficiente, perché dovevamo sicuramente essere in vantaggio a quel momento lì. Poi è chiaro che secondo tempo non è stato iniziato a dovere, perché subito il Sion ha avuto una palla a gol, un tiro in porta di Carlin, che è andato vicino al gol. E poi soprattutto il colpo di testa di Wakatsuki, che lì ci siamo fatti prendere un attimino su una palla inattiva. E poi abbiamo avuto lo stesso, le nostre occasioni per segnare anche noi il gol. E poi è arrivato quel rigore che non doveva assolutamente arrivare. Siamo stati un attimino ingenui lì, in quel momento lì, perché non c'era assolutamente da intervenire in quel momento lì, così come siamo intervenuti. Il rigore si può dare e quindi dobbiamo accettare. Però ancora una volta dico che per noi ci sono stati due rigori non fischiati e che quando si guardano al VAR si dovrebbe almeno accettare il verdetto del fallo di mano che c'è stato, perché se ancora una volta non l'avresse toccata di mano, Ardaïs sicuramente col piede sinistra aveva potuto fare gol. Non è stato così, per me poi c'è ancora un fallo anche su Lungoi, perché Teller l'ha sbilanciato col piede. Ma soprattutto anche il rigore di Lavanchy, il rigore su Lavanchy c'è tutto e non si è visto al VAR. Come valuta in generale in questa stagione l'utilizzo del VAR? Non abbastanza bene, non esattamente ancora, io non arrivo a capire ancora esattamente le regole, quando si deve andare a visualizzare e quando non è necessario. Qua mi sembra che l'albitro sia dietro il monitore e non chi sta in campo, perché è lui che alla fine dice viene a vedere o non viene a vedere. Quindi il fallo su Lavanchy c'è tutto, perché l'ha preso alla spalla e per quello c'è stato il rigore. E quindi se poi l'arbitro, anche dopo mezzo minuto, perché ha dato poi una punizione per il Sion, lì avrebbe avuto ancora l'occasione di poter consultare il VAR e di analizzare bene il fallo che c'è stato su Lavanchy. E io credo che chi sta dietro il monitore avrebbe dovuto aiutare l'arbitro in quel caso lì e fargli capire che c'era un fallo da fischiare o di visualizzare ancora una volta lui stesso la situazione sul fallo che c'era stato nel 16 metri del Sion. Ma c'è tanto da discutere ancora. Con il VAR dovrebbe esserci meno discussioni e questo non è il caso. Si discute sempre e sempre e sempre e non si arriva a capire come esattamente è la situazione. Però ancora una volta, per me, tutti quelli che vedono la trattenuta su Lavanchy non mi vengono a dire che Lavanchy è caduto troppo facilmente. è un rigore. Come anche un fallo di mano di Ruiz. È ancora cambiato. Com'è? È ancora cambiato. No, ma quando si parla di questa cosa qui è vero che l'adrenalina sale. Perché ancora una volta è vero che alla fine arriviamo a segnare l'1-1. però c'è voluto tanto, tanto sforzo della mia squadra per arrivare a segnare all'ultimo istante quando c'erano dei rigori prima da fischiare. Quindi è peccato discutere di queste cose. Preferirei discutere di altre cose della squadra, della partita da giocare, eccetera, eccetera. però questa cosa qui è vero che ti rimane un attimino ancora perché ecco queste discussioni non dovrebbero esserci quando c'è il VAR. La quinta volta si è recuperata è una partita con un pari o con una vittoria dopo il tantesimo. Cos'è che marca la squadra per evitare di arrivare a fronte in questi ultimi 10 minuti se dovete giocare un punto o tre punti e essere più tranquilli. Perché questa voglia di offendere e andare a attaccare per segnare queste esperienze importanti nel momento prima o nel momento di eserciare? Ma non è che la squadra non voglia voglia fare i sforzi prima. Anzi, li fa. però credo che contro Sion non siamo stati veramente convinti determinati di come dovevamo esserlo perché io mi aspettavo la squadra molto più convinta ad andare in campo a giocare la sua partita senza badare troppo all'avversario e quindi metterli subito in difficoltà. L'abbiamo fatto a sprazzi ma non sempre non in continuità. Io credo che lì è mancata un attimino anche la precisione dei passaggi. Si recuperava bene la palla però poi dopo stentavamo di giocare veramente molto più fluidi i passaggi più precisi nei piedi quindi meno errori facili e questo è una qualità che dobbiamo assolutamente ritrovare perché la abbiamo. Abbiamo giocatori che sanno giocare bene a calcio hanno delle qualità importanti tecnica c'è e quindi io chiedo ai giocatori molto più precisione nei passaggi non approssimativamente un passaggio fatto ma soprattutto applicazione a foler giocare la palla nei piedi del compagno per metterlo in condizioni di poter continuare un'azione con una certa velocità la dinamica la dinamica del passaggio è importante quindi il dosaggio del passaggio quando devo giocarlo nella corsa o quando devo giocarlo nel piede sono tutte cose che noi penso che possiamo migliorare in questo e lì diventeremo poi una squadra veramente ottima non è un caso che secondo lei che quando passate con la difesa 4 con la presentazione negli ultimi minuti voi riuscite anche a farvi vedere più a livello offentivo la dinamica che potrebbe essere pensando no diciamo che come ho detto alla fine della partita quando siamo passati a 4 abbiamo preso veramente tanti rischi eravamo 1-0 c'erano ancora quei 14-15 minuti a giocare con i tempi supplementari che il rischio è stato enorme se avremmo avuto un'altra avversaria che era molto più precisa nei passaggi rischiavamo di prendere il secondo gol e lì finiva tutto quindi ci sta di prendere dei rischi però quando si gioca a 4 chiedo a un laterale di salire e aiutare nel gioco offensivo però 3 devono rimanere sempre dietro quindi il laterale opposto deve rimanere con i due centrali quindi rimangono sempre in 3 più 1 davanti alla difesa e questo non cambia anche se giochiamo col 3 5-2 perché alla fine sono sempre i tre centrali che rimangono più 1 davanti alla difesa quindi l'aspetto tattico non cambia se vogliamo in 4 o in 3 5 dietro lì abbiamo preso dei rischi perché siamo saliti con i due terzini i due terzini sono saliti e hanno lasciato due centrali da soli dietro quindi ci siamo trovati in qualche azione di contropiede dell'avversario in inferiorità numerica e quindi abbiamo preso veramente enormi rischi e questo non deve essere quando il risultato è sempre di 1-0 perché ecco abbiamo sempre la possibilità di ritrovare l'occasione che ci permette di pareggiare l'abbiamo trovato però abbiamo veramente preso tanti rischi e quindi lì dobbiamo veramente fare attenzione quindi ancora una volta o giocare a 4 o a 3 perché noi all'inizio che sono arrivato abbiamo giocato a 4 fino all'arresto del campionato e poi dopo siamo andati a passare a 5 perché abbiamo iniziato col restart a giocare a 5 però prima io giocavo sempre a 4 dietro anche lì abbiamo fatto dei risultati è vero però li abbiamo fatti anche con questo modulo qui dove la squadra per me si sente maggiormente sicura e soprattutto molto più compatta sì questo è un dato di fatto importante quindi si deve poi segnare un esempio il Milan non si trova per caso primo in classifica però se tiro via Ibrahimovic il Milan sarebbe a metà classifica noi dobbiamo dobbiamo essere tutti e tutti quanti a far sì che poi alla fine riusciamo a fare i gol perché ancora una volta fino ad oggi abbiamo un Gern un Bottani che svaria a destra e a sinistra eccetera eccetera però non è la punta fissa Ibrahimovic ha 39 anni non so quanti penso 38 però non è uno che svaria a destra e a sinistra lui sta lì il rigore subito contro il Cagliari è stato bravo lui è stato furbo poi il secondo gol si trova di nuovo sotto porta perché poi c'è stata la palla in profondità però è stato lui a smarcarsi non è stato in fuorigioco e a segnare quindi noi ci creiamo delle occasioni come delle occasioni come Ardaiz che si è trovato in fuorigioco però poi non ha segnato lì io mi dispiace le chiedo molto più cattiveria molto più furbizia quando un portiere sta per terra o lo driblo o gli faccio il padronetto non posso tirarli in bocca quindi lì lì manca questo ultimo tocco che ti permette di fare i gol e ancora lì ancora dico Lovric io chiedo in quella situazione lì di mangiare la palla questo è un gol da fare è lì che chiedo questa cattiveria ha fatto uno sprint di 50 metri minimo per trovarsi in una situazione per buttarla dentro e questa è una palla meglio giocata di così non esiste c'è portiere avversario è uguale non c'entra niente questo io devo essere convinto adesso questo è gol questa cattiveria ci deve essere sì ma io mi trovo io è quello io quello che voglio vedere è la cattiveria che ha avuto da prela quando ha segnato il gol quella è cattiveria quella è grinta quella è voler fare gol lì si vede tutto quello che aveva in corpo si è concentrato a far gol perché se non era così determinato non fa gol non fa gol quindi sì è vero che Ulrichis ha levato via la palla dalle mani del portiere però se De Prela non aveva quella reazione non fa gol la butta fuori la butta sopra al lato non la butta lì dove ha buttarla e l'unica possibilità di fare gol era metterla in quell'angolino quindi è questa la cattiveria che chiedo e questa cattiveria ci deve essere dal primo minuto e io credo che lì possiamo fare un passo in avanti e non c'entra l'attaccante il centrocampista il difensore lì è chi si trova in quella situazione lì deve voler fare gol perché noi giochiamo facciamo tanto di palleggio tanto di azioni per arrivare a un'occasione quindi quando si crea un'occasione del genere dobbiamo capire dobbiamo finalizzare perché alla fine si tratta di fare gol ma io penso che sia pronto è chiaro che non ha mai giocato in Super League ha sempre incontrato squadre di Super League quando ci ha giocato contro però non ha fatto mai una partita di Super League quindi entrare in campo da giocatore da Super League cambia un attimino l'atteggiamento sicuramente e quindi mi auguro che sia tranquillo sia tranquillo quando farà l'apparizione in campo e quando giocherà e non voglia strafare questa è una cosa fondamentale perché alla fine la porta è la stessa il gioco è lo stesso quindi anzi avrà forse il passaggio più preciso però avrà anche degli avversari differenti di quelli che ha trovato in Challenge League arriva Young Boys domandi a Beraglia avete fatto una bella partita quindi ti pensate che si può che basse e basse ma arriverà un Young Boys che avrà molta fame molta fame perché sa che le ultime tre partite ha perso una e ha pareggiato due e quindi avrà molto fame di iniziare bene il suo campionato riposato e c'è un gruppo veramente un bellissimo gruppo potrebbe mettere in campo due squadre che si equavalgono quindi ha veramente una grandissima grandissima rosa di qualità se noi vogliamo poter dire la nostra un attimino dobbiamo veramente tirar fuori il massimo delle mostre delle nostre qualità e sperare e sperare che che Young Boys ecco non possa non possa giocare come sa giocare però dipenderà anche un attimino da noi quanto ci metteremo noi per mettere in difficoltà una cosa è sicura se entriamo con paura l'abbiamo già persa dall'inizio quindi io chiedo alla squadra di 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 avere quella consapevolezza di avere anche delle qualità importanti quelle che li dico sempre ma soprattutto di entrare con uno spirito veramente giusto di voler andare a fare risultato di poter fare risultato importante sarà nei primi minuti quindi i primi 30 minuti dove Young Boys veramente è forte perché cerca di mettere sotto subito l'avversario con un pressing molto alto e quindi dobbiamo dobbiamo saper saper valutare bene quello sforzo da fare in quei 30 minuti ma non pensando solo a difendere soprattutto quando abbiamo palla cosa facciamo col pallone quindi essere ecco molto più precisi quando si recupera palla con i passaggi per poter contrattaccare soprattutto se loro si buttano tanto in avanti quello che fanno spesso e volentieri e quindi avremo anche i nostri spazi per poter attaccare l'avversario però dobbiamo essere bravi in questo dobbiamo vedere dove poter attaccare l'avversario però dobbiamo veramente avere una grande fiducia nei nostri mezzi e giocare la nostra partita però ancora una volta dobbiamo fare veramente una gran partita domani se vogliamo raccogliere qualche cosa avrei sicuramente preferito giocare forse il mercoledì invece di domenica giocare forse mercoledì per poi giocare la domenica dopo così avremmo avuto una settimana di tempo di preparare la prossima partita questo sì però ci tocca giocare domenica faremo faremo come hanno deciso cercheremo di concentrarci già prima contro l'Unboys dove ci saranno veramente grandi sforzi da fare e credo che la squadra capirà quanto è importante avere una mentalità veramente da vincente si facchinetti ha preso anche una botta una ginocchiata da bubacar nel duello valuteremo anche lui oggi è stata ancora fisioterapia quindi valuteremo ancora il suo stato fisico ecco ieri veramente era indolenzito forte più o meno la stessa cosa come ha subito custodio domenica in partita quindi io mi auguro che oggi possa lavorare sulla corsa per smaltire un attimino quel colpo per poter essere a disposizione domani però ancora adesso come adesso non so ancora esattamente come sta posto grazie grazie a voi